Pronto, dottor Caliendo? Sì, salve, sono Alessandro Zappulla di Radio 6, la disturbo 30 secondi al volo, voglio per una domanda. Ma è vera questa cosa che la Lazio azionava di nuovo su Ederson? Perché ieri circolava di nuovo questa voce e volevo chiedere a lei come era la situazione, sta cercando un giocatore che possa muoversi sulla mediana in quel ruolo. Ma la Lazio stiamo parlando, adesso vediamo un attimo in questi giorni cosa succede. Ma lui è comunitario perché c'era questa questione del passaporto? Sì, infatti questo è il problema, lui adesso ha presentato tutta l'ambasciata al consolato di Ione, di Parigi credo. Sì, e quindi si dovrebbe risolvere nel giro delle quattro mesi. Ah, quindi parliamo comunque di una questione che potrebbe andare a gennaio, non ora? Può darsi. Ah, perciò per adesso lo escludiamo? Sì. Oh, sulla questione Pjanic, visto che lei ha contatti con il Lione, ha saputo se la Lazio ha fatto passi avanti? Ma io questo non lo so, non l'ho fatto io e non cerco niente. No, magari un parere da parte sua perché magari sa com'è la situazione di Pjanic a Lione. Beh, lì in Lione sta, diciamo che in questo momento stanno cercando di mantenere quanto più giochere possibile, però se c'è qualcuno che deve partire vanno per prendere dei soldi. Quindi la vede improbabile l'arrivo di Pjanic a Lione? Non conosco la trattativa, quindi non posso dire... Salutando, dottor Canio, ma voi ci avete dato una promessa con lo dito? Se arriva questo passaporto, Ederson arriva alla Lazio? Ma io so che lo dito, sono tre anni che cerca di avere questo giocatore e praticamente... Voi lo conoscete lo dito come è, no? Sì. E' testa dura e perché non è riuscito a fare una cosa, andiamo e vediamo quello che succede. Perché Lione ha chiesto a Ederson di allungare il contratto. Ederson ha preso tempo e quindi abbiamo preso tempo, vediamo un po' quello che succede. Quindi con il Lione mi si era dà appuntamento a gennaio, se non arriva il passaporto si prolunga, altrimenti c'è la Lazio. Esatto.